Si ho messo tutta una vita per imparare a dipingere come un bambino. Così, con estrema semplicità, Picasso raccontò di essere riuscito a ritrovare l'innocenza tipica dell'infanzia, quella che permette di dipingere senza limiti e preconcetti, semplicemente liberando la fantasia e la creatività. Ed esplodono proprio di creatività le opere realizzate dai bambini delle scuole materne e delle scuole elementari di Gallarate, esposte all'interno della crocetta la galleria di negozi del centro storico. Sono una trentina di opere quelle che abbelliscono attualmente vetrine e muri, ma ne abbiamo ancora molte altre da mostrare, dicono gli organizzatori. Il tema prescelto è l'albero della tua vita. I disegni infatti rappresentano alberi colorati e realizzati con cura e in alcuni casi prendono spunto dalle opere di grandi artisti del passato, come l'albero di Klimt. L'albero della mia vita, che non voleva essere solo un riprendere il discorso dell'albero di Klimt o di altri artisti che hanno trattato l'albero della vita, ma quello che può essere per ogni bambino, per ogni persona, un albero che ha un'importanza emotivamente fondamentale. Potrebbe essere anche l'albero del proprio giardino, nel giardino dove gioca. Quindi non c'era un limite, ma anzi un'apertura di spazio per la fantasia e per la loro creatività. L'iniziativa, che ha visto il consenso e il supporto di tutti i commercianti della galleria, è stata organizzata dall'insegnante Barillà insieme a Peppo Parolini, che da dieci anni si prende cura della crocetta. Sono dieci anni che lavoriamo in questo senso, con l'aiuto dei proprietari che ci hanno dato dei negozi sfitti. Noi abbiamo cominciato a mettere dei quadri, poi sui muri dove ci sono i disegni di bambini siamo partiti con le locandine ingrandite dei quattro teatri di Gallarate e via via siamo arrivati adesso ai bambini a fare questo discorso. Il nostro compito è quello di abbellire. Ci stiamo riuscendo. lampade colorate che ora illuminano e impreziosiscono la crocetta, prosegue Parolini. Chiediamo all'amministrazione di fare ancora qualcosa di più per sostenerci nel nostro lavoro e per rendere questo luogo ancora più bello ed attrattivo. Ci ha regalato comunque queste lampade che sono molto attrattive perché vediamo anche che si ferma tanta gente oggi a fotografarle, non solo anche italiani ma anche molti stranieri si fermano a fotografare questo angolino. Alla sera sono accese e fra un bel colpo direi che siamo arrivati a un bel punto. Sono contento come sono contento che tutti i commercianti dentro qua. Però vorremmo che il comune faccia un appello adesso che ci aiutasse qualcosina in più ma poco.